Cominciamo con la cronaca, intervento del 118 questa mattina a Clusone per soccorrere un ciclista di 42 anni caduto a terra nei pressi dell'oratorio lungo la vecchia provinciale. L'episodio è accaduto poco dopo le 10, a quanto pare il ciclista avrebbe fatto tutto da solo. Dopo essergli state prestate le prime cure sul posto, l'uomo è stato trasportato al pronto soccorso dell'ospedale Locatelli di Piario. Le sue condizioni non sembrano gravi.